Tempesta in arrivo Il vecchio contadino sobbalzò sulla sedia e spense la radio. Sentito cane? Tuonò. Tempesta in arrivo! Conviene portare gli animali al sicuro nel fienile! Cane scattò in piedi e in un balzo fu fuori. Radunale! gridò il contadino mentre cane correva in cerchio attorno alle pecore. Wuh! Wuh! Tempesta in arrivo! Tempesta in arrivo! abbaiò cane. Dobbiamo andare di corsa nel fienile! Spaventate, le pecore seguirono in fretta cane verso il fienile. Sulla strada oltrepassarono lo stagno in cui nuotava papera. Tempesta in arrivo! Tempesta in arrivo! belarono le pecore. Dobbiamo andare di corsa nel fienile! In un battito d'ali papera raggiunse la sponda erbosa e volò davanti alle pecore. Al pascolo le mucche alzarono la testa e videro gli animali passare di corsa. Wuh! 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 Tempesta in arrivo! Tempesta in arrivo! schiamazzò papera. Wuh! Wuh! Dobbiamo andare di corsa nel fienile! Le mucche si radunarono e si unirono al fuggi-fuggi generale. Quando tutti gli animali ebbero raggiunto il fienile, il contadino li fece entrare in fretta. Poi chiuse il pesante portone. Abbaiando, sbattendo le ali, belando e muggendo, gli animali svegliarono gatta dal suo sonnellino sul fieno. Lei si stiracchiò, sbadigliò e aprì un occhio. Tempesta in arrivo! Dissero gli animali in coro. Miau! E chi è Tempesta? Mi agolò la gatta. Le mucche guardarono papera. Papera guardò le pecore. Le pecore guardarono cane. Ma cane non sapeva rispondere. Gua! Gua! Sarà certo qualcuno di molto cattivo! Decise cane, spostandosi a guardia della porta. E di certo terribile! Balbettarono le pecore, cominciando a tremare. Gua! 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 Grande! Gua! Gua! Di certo tanto grande! Borbottò papera, sbattendo le ali in aria tutta agitata. Le mucche rimasero in un angolo a lamentarsi. Gatta sbadigliò di nuovo. Gua! 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 Svegliatemi quando arriva! Mormorò e tornò a dormire. Gli animali aspettavano in ascolto. Ma Tempesta non si vedeva da nessuna parte. Gua! Gua! Ci serve una sentinella! Abbaio cane. Papera volò verso la finestra aperta e sbirciò fuori con cautela. Gua! 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 Non c'è Tempesta! Tempesta! Tempesta non c'è! Schiamazzò. Ma il cielo diventava tutto nero. Gua! Gua! Ma il cielo sta diventando tutto nero! Gua! 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 Oh no! Belarono le pecore. Persino il sole si nasconde da Tempesta! Le mucche abbassarono la testa e si lamentarono più forte. Gua! Gua! Il buio va bene! Disse il loro cane. Tempesta non può trovarci al buio. Così va bene! Dissero tutti d'accordo. Papera cridò ancora. Gua! Gua! Non vedo ancora Tempesta! Ma sta soffiando un forte vento! Gua! Benissimo! Abbaio cane. Il vento spazzerà via Tempesta. Gua! 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 Le mucche sollevarono la testa e le pecore smisero di tremare. Poi però udirono un forte toc 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 sul tetto. Tempesta sta bussando! Gridarono le pecore. No! No! È solo pioggia! Gua! 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 Le informò Papera. Cane annuì. Gua! Gua! La pioggia laverà via le nostre tracce. Così Tempesta non potrà seguirci! Aggiunse. Le mucche e le pecore rimasero per un momento in ascolto. Poi fecero di sì con la testa. Di nuovo Papera gridò. Gua! Gua! Non vedo ancora Tempesta! Ma il cielo manda lampi! Gua! Il cielo accecherà Tempesta! Così non potrà vederci! Annunciò Cane. Le mucche si mossero inquiete e le pecore cominciarono ad agitarsi. Il rombo di un tuono scosse il fienile. Gua! Sentito Papera! Abbaio Cane. Sì! Sì! Schiamazzò Papera. Le nuvole ringhiano a Tempesta! Gua! Gua! Scapperà di sicuro! Gua! 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 Per tutto il tempo il vento soffiò. La pioggia cadde. Il cielo mandò lampi e i tuoni rimbombarono. Intanto gli animali facevano festa. Poi però tutto cessò. Il cielo divenne muto e anche gli animali. Aspettavano in ascolto e Papera volò giù, stringendosi a tutti gli altri. Tum! 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 Qualcuno si stava avvicinando al fienile. Qualcuno stava aprendo la porta. Qualcuno stava entrando. Gli animali si ritirarono in un angolo. Ecco, era tempesta che veniva a prenderli. la porta si spalancò e gli animali trattennero il fiato spaventati era il contadino tutti fuori gridò adesso non c'è più pericolo urrà esclamarono gli animali abbaiando sbattendo le ali belando e gli animali svegliarono di nuovo gatta lei si stiracchiò sbadigliò e aprì un occhio mi sono persa tempesta miagolò no rispose cane nessuno ha più visto tempesta quindi uscì di corsa a godersi il sole con tutti gli altri gatta tornò a dormire